Ciao, sono la dottoressa Carmine Valentino e oggi voglio consigliarti qualche bevanda che può aiutarti a rendere la pelle più luminosa. Innanzitutto ti consiglio di bere tanta acqua, sicuramente è la più scontata, però è la migliore amica proprio del nostro organismo. Infatti bere la giusta quantità di acqua durante la giornata aiuta non solo a depurarci, ma anche alla base di un aspetto sano e di una pelle luminosa. La seconda bevanda che voglio consigliarti è il tè verde, perché il tè verde è ricco di polifenoli, che sono delle molecole con azione antiossidante. La terza bevanda che voglio consigliarti è il succo all'aloe vera, perché aiuta a contrastare i primi segni dell'età e dona inoltre alla pelle un aspetto molto luminoso e sano. L'ultima bevanda inoltre che voglio consigliarti è il latte di soia, perché il latte di soia contiene gli isoflavoni che sono alla base della formazione del collagene. Quindi seguimi i consigli e fammi sapere come va e se hai qualche dubbio puoi scrivere qui sotto, ti risponderò il prima possibile. Ciao e a presto! Ciao! Ciao! Ciao!